Pensare le questioni e i problemi aperti della nostra contemporaneità, accompagnando studenti, associazioni, cittadini e il mondo del lavoro in un percorso di riflessione critica e di sollecitazione dell'immaginario. Questo è l'intento della Scuola di Filosofia Professor Challenger, l'iniziativa nata in seno al Festival delle Baite Filosofiche, che si propone di portare la filosofia ai giovani delle scuole superiori lecchesi per iniziare a costruire insieme a loro il territorio di domani. Un progetto che sarà presentato pubblicamente sabato 10 dicembre alle 15.30 al Circolo Promessi Sposi di Lecco, luogo che diventerà sede operativa della scuola. Un appuntamento che si inserisce nella ricca programmazione del Rebirth Day, festa in programma nei quartieri del Terzo Paradiso di Lecco per l'11 dicembre. Una giornata di arte, creatività e scambio intergenerazionale promossa da Krams, a TS Brianz e a SST Lecco, con attività per i più piccoli, musica con la big orchestra del Krams, socialità e attenzione per i meno giovani, e il tutto con la visione di sperimentare innovativi modelli di convivenza e sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Al centro del programma di sabato, sempre il Krams, in realtà impegnata da decenni in azioni volte a stimolare un processo di costruzione di una città consapevole e attiva. Cambiamento climatico, disuguaglianze sociali, mutamenti tecnologici, complicazioni del mercato del lavoro, transizione energetica, questi alcuni dei temi che saranno al centro della riflessione di sabato, affrontati di volta in volta con gli studenti da un relatore esperto. Gli eventi del weekend sono aperti a tutti, previ e iscrizione all'indirizzo email info-qtplecco.it Gli eventi del weekend